La città di Pagani ospiterà i Vescovi della Campania. Si riunirà infatti domani nella città di Sant'Alfonso la Conferenza Episcopale Campana per pregare e programmare ispirati dall'esempio di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Ad ospitare la riunione di tutti i Vescovi delle Diocesi della nostra Regione sarà il Convento dei Padri Redentoristi. Dopo l'accoglienza e la preghiera nella Basilica alle ore 10 i pastori delle Diocesi della Regione Campania si riuniranno per i lavori previsti dalla conferenza presiduta dal Vescovo di Acerra Monsignor Antonio di Donna. È stato l'anniversario dei 150 anni della proclamazione del Santo e Dottore della Chiesa a far propendere i Vescovi ad incontrarsi nella città di Sant'Alfonso. Memori che anche il Santo Padre Papa Francesco aveva rilanciato la figura di Sant'Alfonso. Lo scorso 23 marzo Papa Francesco aveva inviato un messaggio per ricordare l'importanza nella storia della Chiesa della figura di Sant'Alfonso ricordandolo in diverse circostanze pubbliche fin anche durante la sua ultima visita in Iraq dove aveva voluto rimarcare l'esempio del Santo noto in tutto il mondo maestro di misericordia per l'evangelizzazione dei lontani. Il Santo Padre il 23 marzo scorso poi con una lettera aveva voluto proprio sottolineare quando il messaggio indica ancora con vigore la strada maestra per avvicinare le coscienze al volto accogliente del Padre. Nella lettera il Santo Padre evidenzia l'ascolto della realtà praticato dal Santo Dottore che formatosi in una mentalità morale rigorista si converte alla benignità. L'esperienza missionaria nelle periferie esistenziali del suo tempo, la ricerca dei lontani e l'ascolto delle confessioni, la fondazione e la guida della nascente congregazione del Santissimo Redentore e ancora le responsabilità come vescovo di una chiesa particolare lo portano a diventare padre e maestro di misericordia certo che il paradiso di Dio è il cuore dell'uomo, virgoletta Papa Francesco, riferendosi al nostro Sant'Alfonso. I presuli campani saranno accolti dal vescovo della diocesi di Nocere Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice e dai figli spirituali di Sant'Alfonso. Il 4 giugno cade peraltro anche l'anniversario dell'ingresso in diocesi di Monsignor Giuseppe Giudice. Il vescovo potrà festeggiare così con i suoi confratelli dieci anni alla guida della chiesa nocerino sarnese. C'è un illustre precedente della conferenza episcopale a Pagani. Dal 1 al 4 maggio del 1916 l'episcopato dell'allora territorio salernetano lucano si riunì a Pagani nella casa dei Redentoristi. Quattro giorni che produssero molto frutto. Infatti fu pubblicata la lettera pastorale nella quale si preannunciava la Costituzione in ogni diocesi di una commissione per l'insegnamento religioso e di una congregazione per la dottrina cristiana. A ricordarlo è Giuseppe Palmisciano nel libro Cattolici e Liberali a Sarno nella società di massa. Si legge che i vescovi promossero l'insegnamento metodico del catechismo favorendo la diffusione di cappelle, serotine, scuole serali dedicando particolare attenzione alla lettura del Vangelo ma anche a giornali cattolici e foglietti domenicali contribuendo a far sviluppare l'opera della buona stampa istituita dalla Santa Sede. L'incontro della Conferenza Episcopale Campana presso la Basilica di Sant'Alfonso che sarà un incontro impegnativo lontano dalla sede istituzionale di Pompei è un atto anche di riconoscimento e gratitudine al Santo ma anche all'ordine dei redentoristi presenti con le loro missioni in tutto il mondo compresa la terra d'origine del Santo Padre, l'Argentina dove soprattutto negli anni 70 i padri redentoristi ebbero un ruolo importante sotto il regime dei colonnelli anche un sacerdote paganese, Don Benito Sellitti, trascorse lì parte del suo sacerdozio ed i suoi racconti quando tornava nella sua Pagani erano motivo di grande ammirazione nella città del Santo Dottore della Chiesa Grazie 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 Grazie